6 e 30 Signori benvenuti a Bologna Come avrete intuito dal titolo oggi andiamo a trovare due big boss dell'HeartStyle Sono Cristiano e Antonio a.k.a Chi mi conosce sa che ho avuto l'onore di collaborare con i ragazzi dal 2009 al 2013 Di pubblicare alcuni brani insieme a loro Fare un remix uscito sul loro album Poi ci siamo persi di vista per qualche anno E così ho pensato di tornare a trovarli Fare un piccolo studio tour E fargli anche un'intervista con curiosità sulla loro carriera La loro vita Più qualche aneddoto Quindi andiamo in studio Buongiorno Eccolo Penetro allora Oddio provaci Si delicato per cortesia Siamo dove nasce la magia I nostri amici bolognesi Vi presento Cristiano Io sono quello bello Antonio Questa era una stanza che anni fa veniva utilizzata come secondo studio Per la produzione di brani HeartStyle e House Ci sono passate tante persone, tanti produttori Un po' per questioni artistiche Un po' per questioni professionali Hanno scelto strade diverse Per cui questo spazio è rimasto inutilizzato per un sacco di anni Finché diciamo in periodo covid Come tanti altri addetti al settore Perché non proviamo a farci qualcosa noi Periodo live set, live streaming Live set, live streaming Registrati qua dentro Non tutti sanno che questo era un negozio di dischi Questo nasce come negozio di dischi In una parte che voi non avete visto Perché è attualmente il nostro magazzino Per cui non sarebbe presentabile Però diciamo un negozio di dischi Chiamato all'epoca Record 66 Storico negozio di dischi a Bologna E sul retro del negozio di dischi C'è la parte che state vedendo C'è tuttora lo studio registrazione Negozio di dischi che poi è chiuso più di dieci anni fa Forse anche quindici Perché non c'era più tanto da vendere Delta come va detta Per cui abbiamo continuato l'attività dello studio registrazione Qua ci sono un po' di dischi Appartenenti al mio simpaticissimo e caro Dolce socio Di nome Cristiano Giusberti Che voi tutti conoscete benissimo O se non lo conoscete Lo vedrete tra poco Un pochettino di strumentazione vintage Io sono appassionato di strumenti vintage Roba che ormai non si usa neanche più Però per me hanno un valore affettivo Hanno un valore anche di divertimento personale Perché comunque mi piace Ogni tanto toccare degli slider Dei pomelli invece che un mouse Dopodiché il famosissimo retro bottega Retro bottega Dove si nasconde il nostro amico Cristiano Che voi tutti conoscete come Tecno boy Perché ho appena finito di bere un cammino In questo momento Signori vorremmo mangiare qualcosa Vogliamo sentire se la bottega c'è qualcosa Che oggi è tuo compleanno Che compleanno Dopo una rapida pausa pranzo A inizio l'intervista La prima domanda è Come procede la vostra carriera? Che momento state vivendo? Ma direi che stiamo vivendo una seconda giovinezza Nella nostra carriera Da quando abbiamo iniziato il discorso TNT Abbiamo avuto alti e bassi Come in tutti i lavori Come in tutte le carriere In questo momento stiamo bene Alla nostra veneranda età Ci troviamo bene Abbiamo un buon response Su quelle che sono le nostre live performance La musica Ci piace quello che facciamo Per cui per me è un momento Di soddisfazione personale Anche di soddisfazione Dal punto di vista lavorativo Diciamo che non ci saremmo mai Immaginati più di vent'anni fa Oramai Quando questa cosa è cominciata Di ritrovarci qui E dire queste cose Anche perché I artisti della nostra scena Che hanno la nostra longevità Ce ne sono pochi Noi la prima traccia Diciamo come collaborazione Non era neanche TNT Non era neanche Tecnoboy Diciamo che abbiamo iniziato A produrre musica Che al suo tempo Non si chiamava neanche Arrestal Cioè ne l'avevano ancora neanche inventata È stato nel 2001 Sì Inizio del 2001 Noi il nostro sodalizio Con il signor Antonio Donà in studio Quello qui presente Sua santità Cristiano Giuseppe Sua santità Cristiano Giuseppe E quindi 23 anni Entriamo nel 24esimo Parliamo del paese Con più festival Hardstyle Da sempre L'Olanda Avete mai pensato Di trasferirvi lì? Se noi Ci fossimo Trasferiti in Olanda Il conseguente numero Di serate Pomeriggi Mattinè Chiamiamole così Perché non amai Mattinè C'è di tutto Sarebbero Considerevolmente Più alti Cons Diventeremmo Habituè Nel senso che Saremmo praticamente Sempre lì E il troppo Stroppia Da sempre Ma io Onestamente Non ho mai sentito La necessità Di dovermi Spostare Per lavoro In pianta stabile In altre nazioni Perché comunque Onestamente Oggi come oggi In due ore Arrivi in Olanda In aereo E in altre Un'ora e tre quarti Torni a casa Per cui sicuramente Sono dei costi In più In più In più Per chi Ti vuole Chiamare A suonare Ma tutto sommato Sono Abbrodabili Poi tutto sommato In Italia Sto bene Si mangia bene Il sole Ce l'abbiamo Spesso e volentieri Qual è il vostro Paese preferito Dove andare a suonare? Ma io Sinceramente Non ho un luogo Preferito Ci possono essere Delle piccole situazioni Qualche club Magari che ti dà Delle emozioni Che magari Qualche grande festival Non ti dà E viceversa Per cui È difficile dire L'Olanda O l'Australia O l'America Dipende tanto Dalla gente Ecco Personalmente Un po' tutti abbiamo Up and down Per cui Quando tutto va bene È abbastanza Indipendente Il fattore Di dove mi trovo Perché tutto va Talmente bene Che è chiaro Con le varie sfaccettature La crowd Ti risponderà Come non mai Forse anche Per il tipo di musica Che noi produciamo Non è troppo estrema Non è troppo molle È un po' una via di mezza Per cui Bene o male Riesci ad andare Bene Un po' dappertutto Qual è la traccia Da voi prodotta Che ancora oggi Vi piace più di tutte? È stato Un brano Che come Tecnoboy Ha dato tanto Nel 2008 Io direi che Oh my god Con la voce di Shayla Quello che Trasposto Nel 2022 E che è diventato TNT OMG È stata forse Anche la traccia Che ha determinato L'uscita Da una fase Di oscurità In cui un po' Tutti siamo piombati Invece poi Tutto quanto è ripartito Oh my god È stata secondo me La traccia Che è uscita Meglio Per quello che era Possibile Immaginarsi In uno studio E che Fin dalla primissima Performance Al reverse Del 2022 Credo La traccia Della serata Se non La traccia Dell'anno Per quello Che mi riguarda Dico TNT Countdown Perché È una traccia Che unisce Tante cose Che sono un po' Dei sempreverdi Cioè Quel tipo di sonorità Per chi non la conosce Invita ad andarsela a sentire Un po' più Tecno Alla vecchia maniera Che comunque A me piace sempre E anche un po' Di sana ignoranza Sulle casse Che per l'epoca Insomma Erano pesanti Poi chiaro Oggi fanno ridere Rispetto a quello Che funziona Però insomma È una traccia Che suono sempre Molto volentieri Che mi dà sempre Emozioni suonarla Qual è invece La traccia Peggiore Che avete mai prodotto Oddio Ce ne sono talmente tante Io ce n'ho una Questa qua Me la prendo io Come Tecnoboy Perché comunque Fu un'idea Mia Cos'era Il 2010 Una traccia Che per me È stata Altamente significativa Però nel 1987 Ad opera di Picnic at the White House E la traccia Si intitola We need protection Mi dava una fortissima emozione Quando l'ascoltavo Nella sua versione Originale Pensavo di poterla Trasformare anche In un prodotto Artstyle Che penso sia Una delle cose Peggiori Che abbia La mia testa Mai partorito Cosa che appena Ho suonato Fatto anche in fretta A togliere All'epoca Dal CD case L'abbiamo messa Forse come sotto coppa Ancora A casa di mia mamma Da qualche parte Su un bicchiere Questo è il mio La tua Ma guarda Ce ne sono talmente tante Noi abbiamo una discografia Si ma una Tenti Tenti AYB AYB Perché Eh ma Dai Traccia inutile Chi è il vostro artista Preferito al momento Al momento Per me Adam Bayer Nell'ambito Tecno È diciamo L'artista Che propone Un sound Che raccoglie Assolutamente Le mie preferenze Dovesse suonare Un genere musicale Alternativo A quello che faccio E che produco Quello sarebbe Sicuramente Lo scenario Ideale Perché è un qualcosa Che mi fa star bene Che comunque Mi comunica Una sensazione Di feel good Di energia E di saper fare DJing Nel senso L'arte Di fare il DJ Per me va di pari passo Con quello di fare il produttore Negli ultimi mesi Sto scoprendo O riscoprendo Per meglio dire Drum and bass E se devo dire Un artista Dico Jason Status Dico anche Boo Che è giovane Ma è fortissimo Sono tanti Giovani produttori Che hanno Una grandissima fantasia Una grandissima arte Nel creare musica Film o serie tv preferita Everything everywhere at once Lo dovrò vedere Un centinaio di volte Per elaborarlo completamente Ma penso che sia stato Uno shock Ovviamente positivo Ad un livello tale Per cui Va visto Rivisto Sezionato Qualcosa Che mi ha Flesciato Per usare un termine Anni 80 Che a me sempre piace Al massimo livello Ma io non sono Un grande Guardatore di film Ultimamente Sto guardando Una serie su Netflix Che si chiama Shameless 870.000 stagioni Però è molto interessante Anche perché comunque Racconto uno spaccato Della vita Secondo me Molto realistico Descrivetevi una tipica Giornata in studio Ma prevede sicuramente Di incazzarsi Dalle 2-3 ore Minimo Al giorno Ma roba da sbattere Dalla porta Uscire Non tornerò mai più Oppure lui Ti rigo la macchina Ti rigo la macchina Ti aspetta sotto casa Stanotte Aspettatela Poi quando queste cose Invece scemano L'inizio settimana È un po' un Ricapitoliamo A che punto eravamo E anche di quello Che abbiamo ascoltato Come dicevamo prima Ognuno di noi Ascolta roba diversa Ci piace mettere assieme Le due cose Per cui lunedì Io sottopongo a lui Qualcosa che ho ascoltato Che potrebbe essere interessante Amalgamare O mettere soltanto Come vibe Un vibe Un suono Interessante Senti questo Senti questo Per il resto della giornata La puoi raccontare tu La giornata tipo è Diciamo che ci vediamo Dal lunedì al venerdì Ci troviamo in tarda mattinata Due chiacchiere Si pranza al volo E diciamo Verso le due Si inizia a lavorare Su un progetto Su quello su cui Stiamo lavorando Fino a Solitamente Le sette Sette e mezza Di sera Nell'arco di queste Cinque ore e mezza Si passa dalla Parte tecnica Alla parte Di arrangiamento Alla parte Di discussione Cose che capitano Abbastanza Devevalmente Il che riporta Alle due o tre ore Di litigi Che capitano Molto di frequente Qual è il vostro rapporto Con la DJ's life? DJ's life Per noi è routine È qualcosa Che portiamo avanti Da più di vent'anni Non dico che ci scivola addosso Ma quasi Fa parte del gioco Che abbiamo voluto giocare Che abbiamo detto Cominciamo oggi Non abbiamo dato Una data di scadenza È comunque qualcosa Che a noi piace fare Perché porta nel bene Nel male Sempre qualcosa Che ci è poi utile Soprattutto nel fare musica O ricordare situazioni È un grandissimo Enorme Ho raggiunto Su quello che si fa Nel queste quattro mura Nella fase compositiva Raccontatemi qualche aneddoto Successo on stage Una ragazza Si avvicina alla console E mi chiede di suonare Poker Face di Lady Gaga Dico guarda che Non ce l'ho Poker Face di Lady Gaga E lei ci rimase male Fa Possibile che a me Lady Gaga lì in mezzo Dico non ce l'ho No io non sto pensando Non mi viene in mente niente Stavo suonando in Inghilterra E il DJ prima di me Che era un pazzo criminale Del quale non farò il nome Togliendo le cuffie dal mixer Distrusse completamente Il connettore delle cuffie Per cui divenne impossibile Rinfilare le mie cuffie dentro Dovetti fare praticamente Un'ora senza cuffie La cosa fu un po' complessa Però a fine si saltò fuori Logic Festival in UK Io suonavo prima di Darren Styles Diciamo che il quantitativo D'alcol ingerito era notevole Pensando di aver fatto tutto bene Io scendo dalla console Con la credevo fosse mia Chiavetta USB Me ne vado Già dentro la macchina Per tornare indietro all'hotel Quando ho detto Qualcuno che sta Arriva facendo Movezze strane Poche parole Avevo preso la chiavetta Di Darren Styles Il quale era davanti Al pubblico che Tirava fischi Cosi di tutti i tipi Perché stavo andando a casa Con la sua chiavetta E lui stava praticamente Intrattenendo Dicendo barzalletto Qualcosa del genere Com'è la scena Hardstyle In questo momento In Italia? Pressoché Purtroppo inesistente A parte qualche Realtà locale Piccola Legata Al sound Di una volta Visto che al momento Il dutch sound È molto 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 Cattivo Estremo O lo ami O lo odi In poche parole Una vera e propria alternativa Non esiste Quindi qui in Italia La gente probabilmente Si è fermata Al sound Di qualche anno fa E di base Di questo tipo di situazione Si parla Nella maggioranza Dei casi Poi Una piccola parentesi Per quello che A mio avviso È un evento Molto importante Che invece Si concentra Sul sound Attuale Ma fare eventi Del genere A quanto pare Non è cosa Per tutti Onore e gloria Agli organizzatori Del reload Che fanno a Torino In marzo Da poco Hanno inglobato La decisione Di volerlo Trasformare In un festival Hardstyle L'anno scorso Hanno fatto Sold out Ciò significa Che qualcosa Potrebbe di nuovo Cominciare a prendere Quota Nell'ambito Dell'interesse Verso questo Sound Che in Italia Se non ha Un booster Di questo tipo Difficilmente Riesce a mantenere L'interesse Speriamo di Tornarci Speriamo che Continino E intensificano Anche il numero Di serate Prossimi progetti E collaborazioni Una nuova collaborazione Con Darren Styles Che stiamo ultimando In questi giorni Una collaborazione Ulteriore Sempre con DJ Isaac Poi vedremo Al momento Dato il tipo Di sound Che facciamo noi Tantissimi produttori Stanno chiedendo La nostra disponibilità Per collaborare A un brano Se la cosa È fattibile Noi non ci tiriamo Indietro Però comunque Vogliamo anche Dare spazio Al progetto Esclusivamente TNT Non che sia sempre Comunque affiancato Di un altro nome Per cui Un po' alla volta Cercheremo di accontentare Un po' Quelli con i quali Ci sentiamo di fare Una collaborazione Facciamo una domanda Bonus E parliamo Di un artista italiano Che sta spaccando tutto E che speriamo Di portare Su questo canale Cosa ne pensate Di Ruler È un ragazzo Che ha una grande personalità Sia nella musica Che nella vita E ciò lo sta ripagando Alla grande È bravo È intelligente Non posso dire bello Ma Sto scherzando ovviamente Però Massimo rispetto Sia per lui Che per Aleandro Ovvero Sick Mode Due ragazzi Che si sono fatti strada Non dico neanche Si stanno facendo strada Perché se la sono già fatta Sono veramente Molto in gamba Hanno ridisegnato L'artstyle Con innesti di cose Che non avrei mai pensato Di sentire Da gente della loro età Sono colpito Da quanto Mondo Dei miei amati Anni 90 Soprattutto per l'utilizzo Dei vocals Perché dici Sono da sempre stato Innamorato Delle cantanti Perché a me piaceva Tantissimo anche La musica house O underground Come viene definito In quelle epoche Che praticamente Sono quasi scomparse Del tutto Nel nostro ambiente E il fatto di risentirle Inglobate Nelle loro produzioni Da Christopher e Alejandro È qualcosa Che dici È un miracolo Personalmente E mai avrei pensato Di sentire Questi mondi messi assieme Nel loro modo E ridisegnati Ripeto In maniera così perfetta Da diventare sublime Ecco E beh cari teleascoltatori Cari teleascoltatori Radio No cos'è Tele Tele amazed Tele antenna amazed Grandi spettacoli Vi attenderanno I primi di una lunga serie Serie Oh dove andiamo andare Stiano bene Tutti loro Yes Ma pure la macchina Che vuole Ciao Buon vento Ciao Antony Saluto Ragazzi Il video finisce qua Spero che questo format Vi sia piaciuto Perché arriveranno Altre video Come questo Con altri Super personaggi Quindi Iscrivetevi al canale Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao